Sono con Liliana Palmieri, appartenente alla categoria giovani, 18 anni una voce giovanissima, ci canti una cover, titolo? Respiro Respiro Liliana Palmieri Grazie Fa che io canti presso le cose che sei Fammi fermare il tempo che danza tra noi Lascia che sia respiro Finché tu ci sei Il mio saluto al giorno Per non lasciarsi andare Ma io vorrei che il mio viaggio di gran vagabondo finisse con te E per noi diventasse respiro quell'esserci amati Annullati, divisi, ricorsi, appagati Voglio che sia respiro L'amore tra noi Per non piegarsi dentro Per darsi di più Lascia che sia respiro Finché tu ci sei Il mio saluto al giorno Per non lasciarsi andare E vorrei che il mio viaggio di gran vagabondo finisse con te E per noi diventasse respiro Quell'esserci amati Annullati, divisi, ricorsi, appagati Vorrei che ogni volta che cerchi qualcosa Cercassi di me E per noi diventasse respiro E per noi diventasse respiro la nonna canzone Diventasse respiro lo stesso ricordo Voglio che sia respiro L'amore tra noi Per non piegarsi dentro Per darsi di più Lascia che sia respiro Finché tu ci sei Il mio saluto al giorno Per non lasciarsi andare Mai Foto Dalla Calabria Direttamente dalla Calabria L'inera Palmieri Arrivo a Sanremo Per cantare Respiro Di Franco Simone Sei stata soddisfatta Di quanto ci hai fatto ascoltare questa mattina? Sì, sono stata soddisfatta Al cento per cento Oh, questo ci fa prima Perché in genere si è sempre super critici Iper critici con te stessi Invece te dici No, sono stata brava Tanto che ti abbiamo fatto esibire due volte Due volte Non ci era bastato E quindi rifarla Vogliamo essere convinti Che la perfezione Non è soltanto un caso Ma ce la puoi ribadire E tu ce l'hai ribadita Certo Quindi hai speranze di passare il turno? Sì Senti, avevi davanti Un Maestro Vincetempera Ma te sei giovanissima Hai appena 18 anni Maestro Vincetempera Maestro d'orchestra Ha musicato Ha scritto tante musiche Importanti Dei cartoni animali Uforbo Remy Eccetera Ti ha fatto un po' impressione Sapere di essere giudicata da lui Lo guardavi? No Sì, lo guardavo Però era abbastanza tranquilla Perché comunque Mi hanno trasmesso Molta tranquillità Devo dire che è un ambiente molto tranquillo Un ambiente dove magari non c'è giudizio Proprio appena la persona si presenta Quindi sono stata abbastanza tranquilla Sì, sì Ok Senti, so che è uno stuolo di parenti che ti segue Vogliamo Ecco, si sentono anche Vogliamo salutare qualcuno? Certo Allora, io saluto comunque la mia città Il mio paese Che è Corigliano Rossano Corigliano Rossano Cugino? No, lui è il mio manager Manager Che mi ha aiutato molto Ok, cugini? Mia zia, mio zio Ok, cane? Cagnolino? No Ho capito che siamo calabresi Vabbè, la mia è Giosefina Ok Ho capito che siamo calabresi però Non ci facciamo riconoscere subito Avete fatto È un pullman oppure? No, abbiamo un bel fuoristrada Un bel fuoristrada Perfetto Benissimo Ok Senti, un'ultima cosa Da 1 a 10 l'organizzazione di San Raymanutalent 10 Puoi dire 10 10 Non è stata pagata Non sono stata costretta Non sono stata pagata Puoi dire due parole anche sul presentatore Bravissimo Perfetto Dopo mi devi dare 200 euro No, che 200 euro Si alzano i due punteggi Vogliamo chiudere qui questa simpaticissima intervista Sì L'urlo del tifo del pubblico Perfetto Buona fortuna Grazie Ehi tu, dico a te Sei un cantante, interprete o un cantautore di qualsiasi età? Sei pronta a salire sul palco di Sanremo New Talent a Sanremo Ti stiamo cercando Audizione online gratuita e immediata La prossima star potresti essere tu www.SanremoNewTalent.com Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti